Una puntata particolare ad Agri Sapori. Oggi abbiamo per un momento abbandonato il cibo, i piatti tipici e l'agricoltura. Per dedicarci ad un prodotto che pur sempre è frutto della terra, ma il cui utilizzo non è indirizzato all'alimentazione, ma diventa materia prima per l'artigianato in varie forme e diversi impieghi. Stiamo parlando del legno. Per conoscere in modo più approfondito questo prodotto abbiamo raggiunto Saluzzo, una cittadina in provincia di Cuneo che viene anche chiamata la patria dei maestri mobilieri. Qui è nato il polo del legno Saluzzo e valli del Monviso. A sostenere questo prestigioso progetto ben 16 realtà del territorio. Le unioni montane del Monviso e della Valle Varaita, alcune scuole professionali e liceali, il consorzio Saluzzo Arreda, la fondazione Amleto Bertoni, ma anche aziende di settore come le torinesi Laserlam e Iris o il centro didattico Alfa Betulla di Isasca. Capo fila del progetto è la città di Saluzzo, che vanta un passato storico ricco di scambi culturali ed annovera stupendi lavori di intaglio del legno ed una cultura della lavorazione di questo prodotto davvero antica. Noi siamo ora con l'assessore alle attività produttive del comune di Saluzzo, Francesca Neberti, che ringraziamo innanzitutto per la sua disponibilità. Assessore, partiamo dal binomio Saluzzo mobile in legno, uno storico legame inscindibile. Saluzzo e legno sono un legame indissolubile che dura ormai nei secoli. Quando si pensa al legno, si pensa a Saluzzo, si pensa alla propria storia, a quella che è la propria tradizione, alla propria cultura. Saluzzo è da sempre la culla dell'artigianato artistico. Ancora oggi abbiamo delle botteghe, abbiamo l'arte da saper fare, abbiamo quella tipicità che ci rende unici in un settore che ogni giorno risulta essere all'avanscoperta, magrado la criticità del comparto. Saluzzo investe molto sull'artigianato perché crede fortemente in questo comparto ed è per questo che siamo al 78esimo anno di edizione di una mostra nazionale che stiamo ogni anno cercando di far rinnovare, di far conoscere, di dargli quel valore aggiunto che la renda sempre competitiva e unica in quel settore. Noi siamo consapevoli che chi viene a Saluzzo non incontra solo il mobile, la sedia, il tavolino che rispecchia una tradizione di saper fare, ma incontra proprio dei soggetti che nella loro manualità, nella loro capacità, in quello che deriva dalla loro tradizione, sanno fare qualcosa che nelle altre parti d'Italia o di un altro territorio magari si è dimenticato, non è stato più riscoperto e invece qua noi siamo ancora capaci di realizzarlo e di raccontarlo. Restando in tema, un tavolo di confronto nato l'anno scorso che ha portato oggi alla nascita ufficiale del Polo del Legno, con le firme da parte dei vari attori protagonisti. Sì, questo qua è un tavolo, un tavolo che si è avviato un anno fa, che aveva proprio come centro, come cuore, quello di voler arrivare a una costituzione di un piano territoriale sulla filiera legno. È stato di impulso regionale quello di voler coinvolgere tutte le vallate e di fare il saluzzo capofila di questo territorio, di questo progetto. I partner che oggi erano qua seduti a questo tavolo sono soggetti che da un anno lavoro e da un anno si confrontano per riuscire a intercettare una serie di obiettivi legati alla formazione e legati al mondo produttivo e anche di poter darsi come obiettivo quello di saper accedere, proprio facendo rete a una serie di fondi strutturali, regionali e anche europei, in modo da realizzare degli obiettivi che rendono competitivi il nostro territorio in campo della filiera legno. Tra le istituzioni abbiamo detto anche le scuole, quali l'azienda di formazione professionale di Dronero, l'alto perfezionamento musicale, l'istituto Denina e liceo Soleri Bertoni di Saluzzo, ma anche le aziende del settore legno. Un simposio che sposa perfettamente scuola e lavoro. Assolutamente sì, è fondamentale proprio questo dialogo tra le scuole e il settore produttivo e quindi le aziende. Oggi, gli studenti di oggi saranno i lavoratori di domani e quindi è necessario che sempre di più ci sia questa osmosi, diciamo, tra i due comparti. Speriamo anche con questo progetto di poterlo realizzare a pieno. Andiamo allora a conoscere meglio il percorso formativo dei giovani che vogliono intraprendere questa professione legata al legno. Raggiungiamo quindi l'istituto Soleri Bertoni, scuola che poggia su una lunga e consolidata tradizione di insegnamento e di formazione nella città di Saluzzo. Il Soleri, così come comunemente chiamato, nacque nell'ottobre del 1865 e ancora oggi forma ogni anno centinaia di ragazzi. Alessandra Tugnoli è il dirigente scolastico di questo istituto. Direttrice, lei e i suoi collaboratori avete deciso di far parte di questo polo del legno. Ci vuole spiegare il perché di questa scelta? L'istituto di istruzione Soleri Bertoni di Saluzzo è aderito al polo del legno in particolare per il corso del liceo artistico che ha raccolto la tradizione importante dell'istituto d'arte Amletto Bertoni e ha sviluppato un nuovo corso che è attivo da cinque anni di liceo artistico con gli indirizzi di design dell'aredamento del legno e dei metalli. Per noi è importante aderire al polo per il settore che riguarda la progettazione e il design del legno e nella scuola queste attività sono particolarmente sviluppate e legate a una parte culturale importante che è quella dell'area liceale. Quali sono dunque nello specifico i percorsi formativi che i vostri allievi seguono? Nella scuola ci sono quattro corsi liceali ci sono il liceo linguistico, delle scienze umane, economico, sociale e artistico all'interno del liceo artistico dopo un biennio comune di preparazione generale ci sono due aree di specializzazione all'interno del percorso di design quello appunto dell'aredamento del legno e quello dei metalli. I ragazzi svolgono un percorso molto completo perché accanto a un percorso culturale comunque importante, ampio perché studiano tutte le materie liceali affiancano un percorso di progettazione e di attività laboratoriali. Nel percorso progettuale elaborano progetti legati ai loro specifici indirizzi e realizzano poi i loro prototipi all'interno dei laboratori. Nei laboratori svolgono diverse attività per quanto riguarda il settore legno si va dalle banisteria all'intarsio, al restauro e allo studio anche di nuove tecnologie. E poi abbiamo il settore metalli all'interno dei quali sviluppano il design del gioiello e della forgiatura. I vostri dipartimenti scolastici sono deputati alla ricerca, all'innovazione e all'educazione. Entrare in contatto con il mondo produttivo fa sì che si creino esperienze didattiche più vicine a quello che sarà il mondo che i vostri giovani incontreranno terminato il percorso degli studi. Noi riteniamo che la formazione sia fondamentale e che sia una formazione più possibile completa. Abbiamo visto in questi anni che la sfida che viene dal mondo del lavoro è proprio legata all'innovazione, alla flessibilità e alla capacità di rinnovarsi costantemente. Ed è quello che cerchiamo di dare ai nostri giovani. Quindi la maggiore capacità di adeguarsi alle richieste del mondo del lavoro e anche alla maggiore possibilità di ampliamento culturale perché oggi è importante affiancare alle capacità progettuali e tecniche anche un buon bagaglio culturale e una conoscenza che va dalle lingue alle capacità comunque di relazionarsi con il mondo che sono fondamentali in qualsiasi settore. La scuola propone già da molti anni possibilità di stage che permettono agli studenti di sperimentare già durante il percorso scolastico alcune esperienze lavorative. Da quest'anno con l'obbligo di alternanza a scuola lavoro dalle classi terze abbiamo ulteriormente intensificato queste attività che sono estremamente importanti e che cerchiamo di diversificare in modo che gli studenti abbiano un ampio panorama di conoscenze e di possibilità attraverso contatti sia con le aziende che con gli enti turistici, con le realtà artistiche del territorio. E passiamo ora dalla formazione alla produzione e restauro dei mobili in legno. Il Consorzio Saluzzo Arreda raggruppa le imprese artigiane che si riconoscono nell'aggregazione, nella condivisione delle risorse e credono fortemente nell'innovazione tecnologica. Strumenti importanti per il rilancio del settore del mobile artigiano, già ben radicato su questo territorio. Fabio, tu che sei il presidente di questo consorzio, vuoi spiegarci meglio chi siete e che cosa fate? Il Consorzio Saluzzo Arreda nasce nel 2009 dalla volontà di un gruppo di artigiani del settore arredamento, del saluzzese e dintorni, di aggregarsi. Aggregarsi per condividere risorse, condividere esperienza, idee e poter lavorare in sinergia sulla progettazione di nuovi manufatti contemporanei sul moto dell'Unione fa la forza. in un momento di crisi e di difficoltà e poter soddisfare le esigenze del cliente al meglio e rimanendo competitivi sul mercato. Un pool dunque di professionisti a 360 gradi nel mondo del legno. Sì, le aziende di Saluzzo Arreda vanno dal restauro, alcune aziende hanno lavorato anche con la soprintendenza dai beni culturali, quindi lavori di un certo livello, alla produzione di manufatti e mobili classici che hanno fatto la storia dell'arredo, fino ad arrivare ad arredamenti moderni e contemporanei con l'uso di materiali che spaziano dal legno l'essenza locale abbinata a materiali moderni. Qual è il vostro interesse nel far parte di questa filiera del prodotto legno? Aderendo al progetto filiera legno Monviso, Saluzzo Arreda e le sue aziende avrebbero una maggiore collaborazione e visibilità per tutto quello che riguarda il marketing e la collaborazione con le scuole, quindi la parte formativa, fino ad arrivare alla parte progettuale per poi realizzare i manufatti. Nel particolare Saluzzo Arreda dal 2012 è gestore di una parte dei fabbricati di Isasca del Polo del Legno per quello che riguarda i laboratori. Ad Isasca è già presente una parte formativa con la scuola, una parte didattica con l'alfabetulla e diciamo che i laboratori di Saluzzo Arreda attrezzati di macchinari a lavorazione numerica completerebbero il cerchio della produzione. Il laboratorio di Isasca vuole essere una falegnameria nuova, aperta ai giovani, una falegnameria dove i giovani studenti possono fare pratica e formazione su macchinari che già lavorano producendo arredi. Nelle valli del Saluzese il legno di castagno costituisce una materia prima locale con un'ampia disponibilità, ma attualmente ha un mercato che si limita principalmente alla legna d'ardere o al massimo alla filiera legno-energia. Questa sottoutilizzazione ha un impatto importante sul territorio dato che il ricavo può non giustificare una gestione attente ed economica dei boschi locali, oltre ad indirizzare la risorsa ad un uso dal basso valore aggiunto anche in termini di professionalità coinvolte. L'utilizzo in un ambito edilizio o dell'artigianato con una lavorazione direttamente sui luoghi di dettaglio porterebbe molteplici vantaggi. Questo è l'ambizioso compito anche dell'Istituto Denina di Saluzzo, che oltre a sperare in un futuro mobile a chilometro zero, ha anche inserito sul posto una scuola a chilometro zero. Abbiamo raggiunto Isasca in Valle Varaita, dove l'Istituto ha aperto un corso che comprende otto ore di attività il lunedì di ogni settimana. A disposizione due aule, una per la didattica, l'altra per il laboratorio. Il poter coinvolgere gli allievi direttamente nel lavoro pratico porta dei risultati molto soddisfacenti anche nelle altre materie. Ci ha illustrato ai nostri microfoni il presidente Antonio Colombero. Andiamo dunque a sentire. Tre anni fa, quando abbiamo pensato a questo laboratorio, ma più che altro a questo corso di psia, di professionale, l'intenzione è stata quella di creare a Saluzzo una scuola che desse sbocco lavorativo e sfruttasse l'energia prima del legno per la formazione proprio dei giovani di questo territorio qua. L'Istituto da sempre ha posto molta attenzione proprio ai nostri ragazzi e lo sviluppo del territorio e questa è una piccola realizzazione di quello che era il nostro intento proprio nella partenza di questo corso che si chiama Operatore del legno riferito proprio al lavoro pratico che le aziende richiedono al termine del quinquennio del diploma statale di maturità professionale dell'artigianato, diciamo così, del legno. È una scuola statale professionale. Quindi ci sono ore di attività pratica, in particolare abbiamo quattro ore di laboratorio che si possono vedere nelle immagini e quattro ore di progettazione e disegno di... Partiamo subito con le attività di disegno legate all'autocad e in particolare a SketchUp che permette la visione tridimensionale, la progettazione in tridimensionale già anche ai ragazzi di 14-15 anni che riescono ad apprendere meglio rispetto proprio a questo meccanismo qua della progettazione che non rispetto all'autocad che pur importante rappresenta comunque un gradino successivo. Le attività qua si svolgono con costruzioni di piccoli oggetti nella prima, sempre costruzioni di oggetti un po' più complessi nella seconda per poi iniziare dall'anno prossimo siamo alla prima volta che andiamo nel terzo anno avvicinarsi alle macchine e cominciare a vedere, a provare qualche attrezzatura di quelle che sono state le riprese che abbiamo appena fatto. Formare per creare nuove opportunità lavorative in luoghi disagiati vuole dire garantire anche la tutela del territorio in questo caso montano. È uno degli obiettivi per cui ho creduto molto in questa scuola qua perché ne vale la pena cioè cercare di ripopolare le montagne che offrono la materia prima per la quale noi dobbiamo andare a lavorare e questo fa parte dell'indirizzo che ha la nostra scuola perché anche gli stessi tecnici gli stessi professionali devono arrivare a questa idea di valutare che cosa c'è nel nostro territorio per poi andare anche fuori dal territorio però partire dalle risorse che abbiamo sul territorio. La didattica parte dall'esperienza degli alunni il recupero degli alunni che didatticamente si erano allontanati dalla scuola abbiamo visto un recupero della parte didattica attraverso le attività pratiche che stanno svolgendo nei laboratori. In questo corso noi abbiamo 8 ore di laboratorio tra progettazione e disegno e altre 3 ore di laboratorio informatico puro quindi queste 11 ore sulle 32 globali hanno motivato gli alunni perché stanno riscoprendo anche il bello delle altre materie. Nel corso è anche previsto dalla terza in poi il marketing e la possibilità di avviare il commercio e di inventare la modalità nuova per commerciare perché per una filiera corretta bisogna partire dalla materia prima e arrivare al fatto di poterlo commerciale. Infatti abbiamo creato delle buone intese anche con tutte le aziende che lavorano nel legno della zona proprio perché confidiamo che questa cosa qua si sviluppi. Non sarà l'unico modo per sviluppare il territorio ma penso che con la scuola si attivino dei meccanismi per cui partendo dai giovani si arriva poi a chiudere il cerchio dove si può arrivare a far crescere, produrre, trasformare e vendere un prodotto che poi è il sistema economico che funziona ed eventualmente anche stanziare e vivere nel posto in cui uno vive o comunque si è avvicinato a una scuola che vive proprio all'interno anche addirittura Isasca, un piccolo comune della Val Varaita che è proprio in mezzo ai boschi quindi anche questo aiuta. Grazie a lei ma anche ai suoi colleghi che hanno dato la disponibilità a raggiungere questa succursale diciamo meno comoda rispetto alle loro abituali sedi di lavoro. Tutto questo bellissimo progetto è riuscito anche grazie alla collaborazione degli insegnanti della scuola che hanno creduto come me che questo potesse essere una grossa risorsa anche per il territorio. Io ho trovato l'accompagnamento, nomino due o tre persone ma non sono solo loro, quindi a partire dalla vicepreside il professor Saccozzupoli, il professor Lorenzati che è qua presente il professor Armanelli e tutti gli altri che hanno collaborato fino in fondo proprio alla riuscita di questa cosa qua. se non ci fossero stati loro solo i sogni del professor non sarebbero sicuramente riusciti. Sempre nel plesso di Isasca in Val Varaita si trova anche il centro didattico Alfa Betulla un percorso per capire, giocare, imparare, costruire, manipolare e vedere tutto ciò che riguarda il legno da come nasce un albero ai prodotti finiti che si possono realizzare. Marco Revello è in collegamento con noi per illustrarci meglio questo curioso viaggio della lavorazione del legno dalla A alla Z. Sì, Alfa Betulla nasce dall'esperienza di lavoro di qualche anno fatto con la fabbrica dei suoni. Noi lavoriamo principalmente a Venasca con le scuole quindi con le visite didattiche e abbiamo deciso di esportare questo metodo di lavoro molto esperienziale anche in questa zona che era un po' più isolata, a Isasca per dare un po' vita a questo centro del legno. Qui sostanzialmente invitiamo le scuole diciamo che il percorso è adatto principalmente dalla quarta elementare fino alle medie e lavoriamo appunto cercando di far passare alcuni concetti in modo pratico. Il nome stesso Alfa Betulla nasce dall'idea di far conoscere un po' l'albero uno degli alberi più diffusi in questa zona di media montagna la Betulla. Unendo alla parola alfabeto abbiamo creato questo neologismo Alfa Betulla appunto che ha l'ambizione forse irraggiungibile di parlare dell'albero dalla Z e quindi nelle varie sale che i ragazzi possono visitare si parte appunto da un filmato da un documentario realizzato ad hoc che parla della nascita degli alberi dei primi organismi unicellulari venuti sulla terra da 500 milioni di anni fa fino ad arrivare alle stagioni dell'albero. Dopodiché è possibile metterle in pratica queste cose quindi cercare di capire come mai da un certo tronco nasce un violino piuttosto che una botte o una sedia e così via per poi andare a visitare gli alberi da un altro punto di vista per esempio una sale dedicata alle radici e quindi i ragazzi che entrano si stupiscono perché hanno la possibilità di vivere come delle talpe e quindi vedere le radici da un punto di vista inusuale cioè da sottoterra e così via poi si procede grazie a un grande ingranaggio cercare di abbinare l'oggetto all'essenza di legno più adatta e cercare di capire come mai questo albero va bene per fare un certo oggetto si passa attraverso il Bosco delle Curiosità dove si incontra l'albero più vecchio l'albero più grande l'albero più resistente e così via fino ad arrivare al discorso del gioco fino agli anni 70 i giochi erano costruiti principalmente in legno non c'era ancora stato l'avvento della plastica e quindi il legno era molto importante qui nella nostra zona abbiamo Prezzemolo che è un signore che si batte per riportare in vita il legno come gioco e l'ultimo aspetto che poi alla fine è il più coinvolgente per i ragazzi e quello del legno utilizzato nell'edilizia e quindi abbiamo ricostruito quattro modelli di case che i ragazzi a gruppi di 5 o 6 per ogni modello possono costruire partendo proprio da zero e ispirati da dei modellini costruiti in collaborazione con il politenico di Torino La filiera del legno con la creazione del neopolo del legno di Saluzzo e delle valli del Monviso sono progetti in cui anche la regione Piemonte ha fortemente creduto e in particolare un suo consigliere Paolo Alemano che si è prodigato molto per la realizzazione di questo progetto indispensabile per favorire lo sviluppo delle aree rurali Direi che è cruciale perché il legno insieme all'acqua insieme all'agricoltura di montagna è una delle risorse principali di questo territorio è sostenibile garantisce qualità ambientale il fatto che tutti questi stakeholder dalle scuole alle imprese agli enti locali abbiano compreso che qui non si tratta di fare cassa ma si tratta di creare un sistema che agendo sulle linee della competitività dell'innovazione e dell'occupazione ci porta nel futuro è una cosa di grande importanza Per la regione Piemonte questa è una filiera del legno che parte da dove per arrivare dove? La filiera del legno parte naturalmente dal bosco, dalle foreste quindi parte dai piani forestali dal superamento di una parcializzazione catastale che oggi è uno dei principali motivi del mancato utilizzo della risorsa presuppone tutta la serie di interventi sulla logistica perché recuperare la legna non è facile bisogna stoccarla, bisogna lavorarla, essicarla e poi di lì partono tutte le dimensioni che accompagnano il prodotto legno dalla più elementare che è la produzione di energia per il legno meno nobile al legno nei manufatti nell'architettura il legno nelle tutte le dimensioni che accompagnano l'ingegno umano questo ovviamente intercetta la formazione, intercetta il lavoro intercetta le imprese quindi si comprende che è una veramente una chiave di volta di questo territorio Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un ritorno alle attività in zone rurali legate alla produzione agroalimentare lei pensa che anche l'artigianato del legno può essere un motivo di rinascita economica della montagna Sì, sicuramente ma intanto non sono ambiti separati perché avere dei boschi puliti abitati vuol dire anche favorire l'agricoltura di montagna quindi vuol dire anche un ritorno ai prodotti locali e infatti stiamo lavorando in disciplinare proprio per i prodotti della terra ma buona parte del territorio oggi non è facilmente fruibile quindi di tutta evidenza che artigianato e enogatronomia si accompagnano l'artigianato è una dimensione fondamentale del Saluzese le imprese artigiane delle vallate hanno fatto la storia oggi naturalmente fanno fatica perché l'artigiano non può più sostenere i costi della lavorazione l'avvicendamento familiare spesso si blocca perché i figli fanno altro quindi avere delle economie di scala mettere a disposizione di questi artigiani dei giovani motivati delle macchine penso la macchina a controllo numerico insomma che possano fare diventare un laboratorio condiviso può rimetterci in pista insomma e sottrarci alla dimensione commerciale che oggi livella e piattisce tutto l'artigianato può essere o magari lo è già tuttora di aiuto al turismo nella regione Piemonte? beh lo è sicuramente chi viene da noi e per fortuna è un movimento in crescita cerca naturalmente qualità dell'ambiente dell'aria paesaggio ma cerca anche i segni che l'uomo che l'uomo lascia che accompagnano la nostra comunità che sono quelli del passato ma anche quelli dei nostri manufatti insomma la pietra il legno tutto questo costruisce l'ambiente l'ambiente non è natura selvaggia è interazione con l'uomo quindi se noi siamo una terra di richiamo turistico è perché l'uomo qui lascia delle cose buone non appunto nella dimensione dell'usegetta non ci resta che fare i nostri migliori auguri a tutte le persone che sono impegnate con entusiasmo e grande passione nello sviluppo di questo ambizioso progetto che sicuramente porterà molti frutti anche oggi il nostro appuntamento termina qui e nel ricordarvi che Agrisapori è visibile anche sul sito www.agrisapori.it vi invitiamo a continuare a segnalarci i vostri molti eventi che raccontano le tradizioni le culture le ricchezze del nostro bel paese scriveteci dunque a info chiocciola agrisapori.it sarà con immenso piacere che le nostre telecamere faranno visita anche a voi a tutti